Tutte noi vogliamo sapere se il nostro antirughe funziona davvero. Già 10.000 donne hanno accettato la sfida Garnier Ultralift e uno straordinario 75% ha misurato i risultati visibili. Misuri e puoi vedere il grado di miglioramento. La mia pelle è migliorata di un grado. Queste rughe che si attenuano, si distendono. Non si può chiedere di più. L'ho anche consigliata ad alcune mie amiche. Fai come noi, scegli Garnier Ultralift e credi in quello che vedi. Chi si prende cura di me? Garnier